I vecchi pesatori lavoravano con la stadiera quindi per pesare con le coffe che erano il contenitore delle merci alla rinfusa e pesavano pezzo per pezzo per poi arrivare alla conclusione dello sbarco e quindi fare una resa di tutto quello che era sbarcato. Questa era una garanzia per il ricevitore, era una garanzia perché poi aveva anche un'ufficialità, era una garanzia anche per il portuale perché veniva pagato in funzione di quanto erano le dichiarazioni del pesatore perché ripeto aveva questa mansione ufficiale e quindi dava la resa esatta di quello che era la merce sbarcata. Pesavano 70-80 kg un quintale però lo pesavano in due, avevano la stadiera appoggiata sulle spalle reciprocamente e poi lavoravano esclusivamente con le gambe perché dovevano alzarsi e abbassarsi col peso o vuoti e dopo aver pesato una, due, tre, cento, duecento coffe poi altrimenti la schiena sarebbe andata a pezzi. E allora rimaneva il modo di pesare corretto, era la schiena dritta e si lavorava con le gambe. Vi dico questo perché in parte l'ho fatta anch'io, quando la dogana chiedeva, quando c'erano gli imbarchi di riso e di farina c'erano le dichiarazioni doganali date dal venditore e la dogana chiedeva invece degli scandagli magari 4-5 sacchi per mezzo, per vagone o per camio e quindi dovevamo pesarli e predisporre a una distinta. L'ho fatta anch'io e questo era un lavoro abbastanza faticoso, ripeto specialmente se erano due persone che era uno più alto e l'altro più basso. Io sulla media dei pesatori era abbastanza alto quindi avevo a volte qualche difficoltà però se erano due persone che erano equilibrate perché poi a volte magari chiedevano una squadra una squadra era di due pesatori, poi magari chiedevano due o tre squadre allora magari guardavamo che altezza avevamo e cercavamo di pesare quelli più equilibrati. Era forse il lavoro più faticoso che era rimasto, poi anche questo tipo di lavoro è finito. Poi invece il lavoro ordinario era quello del conteggio delle merci, delle imbragate che passavano quindi mano a mano che passavano le imbragate oppure di varie merci si effettuava il conteggio imbragata per imbragata e alla fine si faceva la resa dello sbarcato. Arrivavano a seconda delle varietà, delle polizze, arrivavano i mezzi sotto bordo. Io parlo di sbarco ma l'imbarco era la stessa cosa e mezzo per mezzo chiedeva magari 300 sacchi perché portavano 300 quintali più o meno e allora io ho conosciuto ancora il sacco da quintali che poi è diventato illegittimo fortunatamente perché si è andati mi pare a 100 libri quindi a 46 kg successivamente. Però arrivava al camion doveva caricare 300 sacchi, 120 sulla motrice, 180 sul rimorco e noi predisponevamo per fargli il carico. E quindi c'era anche una collaborazione con i camali e col tiraggio per riuscire a dare quanto era necessario. Perché sarebbe stato anche difficile, specialmente quando sbarcavano Gersonite, Nero Fumo quindi sacchi piccoli da 20 kg, noi imbragate da 70-80 sacchi. E quando la gru faceva lo sforzo diventavano rotonde e quindi diventava difficile riuscirla a contare perché un conto è contare sul piano quando facevano le varie pile e poi stringevano la braga. Se non c'era collaborazione da parte dei portoai, io devo dire che questa c'è sempre tranne in qualche raro caso c'è sempre stata. Se aggiungevano un sacco di più, un sacco di meno perché facevano l'imbragata standard era magari con pile da 6-7 sacchi e se ne aggiungevano uno di più, uno di meno, ci avvisavano. E questo era un modo di lavorare corretto.